Ciao, sono Sofia Di Zegos e oggi condividerò con voi un'analisi sui mercati finanziari elaborata dal nostro ufficio studi. Se apprezzi i nostri contenuti ti invito ad iscriverti al canale e lasciare un like. 10 motivi per cui acquistare le azioni di Vestis 1. Nuova indipendenza, Vestis è stata scorporata da Aramark all'inizio di ottobre, diventando una società indipendente con il suo team di gestione e una propria strategia di mercato. 2. Mercato del noleggio uniformi, Vestis opera nel settore del noleggio di uniformi, un servizio richiesto per vari ruoli lavorativi che richiedono abbigliamento protettivo o tecnico e per trasmettere un'immagine aziendale coerente. 3. Entrate ricorrenti, il modello di business di Vestis porta entrate ricorrenti con contratti a lungo termine. con un tasso di rinnovo del 93% da parte dei clienti. 4. Crescita e margine di profitto. Come azienda indipendente, Vestis ha la possibilità di competere meglio nel settore e di migliorare la propria crescita e margini di profitto, già dimostrati efficaci dal leader di mercato Cintas. 5. Espansione del servizio, Vestis ha l'opportunità di aggiungere nuovi clienti ed espandere i servizi offerti ai clienti esistenti, aumentando la densità del percorso e ottimizzando la logistica. 6. Offerta diversificata, oltre al noleggio di uniformi, più della metà delle entrate di Vestis deriva dalla fornitura di altri prodotti necessari nei luoghi di lavoro quali asciugamani, tappeti, biancheria, con opportunità di vendita incrociata. 7. Obiettivi di crescita. Vestis mira a una crescita annuale delle entrate del 5-7% fino al 2028 e ha un miglioramento del margine EBITDA dal 14% attuale al 18-20%. 8. Riduzione del debito. La gestione si apposta come primo obiettivo la riduzione del debito, con l'intento di portare il rapporto debito-EBITDA da 3,9 volte a un intervallo di 1,5-2,5 volte entro il 2026. 9. Valutazione azionaria. Le azioni di Vestis vengono scambiate a un multiplo di 16 volte gli utili attesi, inferiore rispetto ai concorrenti. Cintas tratta a 35 per mentre Unifirst tratta a 23 per. Nel tempo la società potrebbe andare a trattare in linea con i competitors. 10. Potenziale di apprezzamento. Sulla base di queste considerazioni l'azione potrebbe salire fino a 41 dollari entro il 2027, con un potenziale di crescita del 145%. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Per maggiori informazioni visita il sito www.zeigosonline.com oppure se vuoi ricevere i nostri servizi in prova gratuita per un mese scrivi a info-zeigos.com ZEIGOS offre solo servizi informativi ed analitici sui mercati finanziari, non esercita in alcuna forma l'attività di consulenza personalizzata in materia di investimenti. Grazie a tutti.